Gli insetti che sono già parte delle diete tradizionali di almeno 2 miliardi di persone nel mondo potrebbero avere un ruolo importante sia nell'alimentazione umana che in quell'animale. Ebbene sì ed è niente di meno che la FAO a sostenerlo. Idea raccapricciante questa per molti ma è bene sapere che gli insetti che si trovano nelle foreste rappresentano una fonte importante di cibo nutriente ricco di proteine e facilmente reperibile. Da loro raccolta il loro allevamento potrebbero offrire occupazione reddito per il momento solo a livello familiare ma potenzialmente anche a livello commerciale. Con circa un milione di specie conosciute rappresentano più della metà di tutti gli organismi viventi classificati finora sul nostro pianeta. Oggi a livello globale i più consumati sono i coleotteri, i bruchi, le api, le vespe, le formiche, cavallette, locuste e grilli. Molti sono ricchi di proteine e grassi buoni, di calcio, ferro e zinco.